La chirurgia mini-invasiva, la chirurgia laparoscopica, noi riusciamo a realizzare degli interventi chirurgici che prima richiedevano delle grosse incisioni utilizzando degli strumenti del diametro di 3 mm con dei grossissimi vantaggi per i pazienti. Grazie alla magnificazione dell'immagine e alla tecnologia HD abbiamo una visione magnificata e possiamo fare degli interventi più precisi. Il diametro degli strumenti di 3 mm permette ai pazienti di non avere dolore nel postoperatorio, quindi minore uso di farmaci e minore degenza e rapida dimissione.